allora sta per finire la partita sta per finire la partita una partita io dico la verità ragazzi una partita che mi ha divertito una partita che mi ha tenuto tenuto lì a guardarla perché a parte delle cappellate su tutte quelle del stuportiere di merda che abbiamo che sul gol fa una papera gigantesca proprio a livelli colossali io mi sono divertito siamo sul 33 mancano due minuti di recupero sinceramente diciamo più rispetto alle altre volte rispetto alle altre volte almeno c'è stata una una reazione uno scatto qualcosa soprattutto l'ultima mezz'ora del primo tempo mi sono veramente divertito vabbè senza di maria questa squadra non gira di maria è calato poi nel secondo tempo io metto anche fagioli e qua io penso che cazzo fa qua chiesa chiesa è entrato malissimo proprio chiesa è entrato gli ultimi 25 minuti che si sperava ripetesse l'ultima l'ultima partita invece chiesa nervoso ha sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare chiesa stasera ha monito pure chiesa adesso per la reazione boh non lo so primo tempo suntuoso di di maria metto anche fagiolino il mio nicolò che solo io l'ho tenuto dentro una bolla diciamo quando tutti gli davano contro io dicevo questo ragazzo aveva le potenzialità per diventare un grande giocatore è infatti c'è avuto ragione come sempre del resto è il secondo tempo è andato un po a calare tutto i due gol subito lì all'inizio della ripresa e ci siamo fatti imbambolare con errori di danilo in uscita e vabbè poi gol di di testa con la marcatura sempre di danilo che non riesce a tenere praticamente bogà sulla fascia un inizio shock nella ripresa e adesso la juve finisce in avanti quest'ultimo minuto vediamo siamo ancora su 3 a 3 secondo tempo ha avuto ha avuto la reazione diciamo non ha avuto lo scatto ha avuto come si può dire il cuore per arrivare al pareggio l'ha ottenuto adesso vediamo l'ultima attenzione alexandro che cazzo ti è successo e infatti palla indietro ovviamente e seguiamo gli ultimi secondi ragazzi chiesa cross in mezzo cross in mezzo attenzione miretti miretti che sbaglia un gol ragazzi davanti alla porta mamma mia mamma mia ragazzi mi sa che qua è finita pallascesni è finita un 3 a 3 che non qui alla fine si può essere giusto può essere giusto perché la partita è stata robuante finisce finisce qua 3 a 3 finisce un risultato giusto a mio modo di vedere che vede un primo tempo dove l'ultima mezz'ora juventus ha giocato veramente bene mi sono divertito lo ripeto secondo tempo sono calati un po tutti ma quando è calato di maria è calato un po tutto il resto diciamo oggi i ragazzi io non posso dirgli un cazzo perché alla fine secondo me hanno corso hanno sudato hanno provato l'atalanta ha giocato bene bisogna fare i complimenti un buon buon controllo e possesso della palla e ricordiamo che questi arrivavano da 13 gol fatti in due partite stasera dai mi va bene così anche perché vi dico la sincera verità che io la juventus adesso la guardo con occhi completamente diversi la guardo ovviamente quello che è successo in questi ultimi due giorni la guardo con occhi diversi la guardo un po più come da non posso da tifoso di 25 anni fa che ero con un po più di attenzione per quanto riguarda i particolari no un po più da attaccato diciamo anche se anche se la guardo e guardo le partite con meno esuberanza ecco la guardo un po più a livello di calma la guardo con un po più di attenzione e meno da tifoso verace ecco quindi perché probabilmente tutte queste vicissitudini mi hanno tolto un po di passione che che faceva parte del mio essere allora la partita in sé ripeto di 3 a 3 giusto salvo salvo stasera di maria su tutti migliore assolutamente in campo insieme a fagioli meccan nel primo tempo mi è piaciuto male secondo me danilo a parte il gol su punizione il resto male danilo male scesni alexandro ha fatto qualche sfuriata sì secondo me locatelli nel primo tempo in ombra nel secondo tempo è un po cresciuto perché ha alzato un po il baricentro rabbio solito cane milic nel primo tempo sponde sportellate un gran gol di milic e e costice in ombra chiesa subentrato fatto ha fatto un cazzo chiesa disastri praticamente e basta ma isa che non ha fatto un cazzo tra tra giusto ragazzi tra tra giusto e si va avanti comunque sempre che della fine forza juventus quindi